Provo a mettere in ordine due e tre informazioni. Repubblica oggi dà spazio alla decisione del governo Draghi, una decisione che arriva in zona Cesarini, proprio in zona Cesarini, voluta dalla ministra Bonetti delle pari opportunità, ma appoggiata dallo stesso Draghi. A che riguardo? A riguardo dell'applicazione anche in Italia delle norme decise in Europa nel 2020 a proposito della strategia da tenere nei confronti delle persone LGBT+. Curioso. Ma perché curioso? Perché le cose stanno in scadenza e proprio adesso si ricordano di applicare queste norme, proprio adesso che quel governo è arrivato alla fine? Veramente curioso. Questo aspetto ha una cosa interessante che la ministra Bonetti ha ribadito l'importanza di questo decreto dovuto al fatto, sentite cosa ha detto, che la strategia nei confronti di queste persone, dei vantaggi da dare a queste persone, la strategia è triennale e ci viene chiesta dall'Europa anche ai fini di finanziamenti per progetti specifici. È vincolante. Quindi, la politica che noi dobbiamo fare nei confronti della realtà LGBTQ è una politica che noi in qualche modo dobbiamo fare perché siamo impegnati con l'Europa perché possa l'Europa darci in cambio di questa buona condotta i finanziamenti. Questa notizia va unita all'altra di oggi. Quest'altra ha fatto un pochino più rumore che una ministra del governo Macron ha detto sì, sì, noi collaboreremo sì, con l'Italia ma vigileremo sul rispetto dei diritti e libertà. Allora, la Francia, la Francia illuminata ci viene a insegnare quali sono i diritti di libertà. I diritti e la libertà. In che consistono questi diritti? Ne abbiamo parlato sulla brusola perché a proposito della Polonia e dell'Ungheria questi diritti questo Stato di diritto è già stato fatto valere contro cosa? Contro le norme cattoliche cristiane che quei governi hanno preso nei confronti del diritto naturale. Ecco, adesso che l'Italia è andata a destra sono molto preoccupati che noi ci allontaniamo ci possiamo allontanare dai diritti e dalla libertà. pertanto il governo Draghi il governo illuminato Draghi e la ministra Bonetti sono intervenuti in zona Cesarini per diciamo coprire la falla potenziale che eventualmente il governo Meloni avrebbe potuto introdurre contro cosa? Contro i diritti e contro la libertà. Chissà da che parte sta la libertà e da che parte stanno i diritti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.